Siamo in compagnia di Franco Arminio, uno dei cinque finalisti del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo, che oggi presenta al pubblico e alla critica popolare il suo libro Terra Carne. Il libro ha un viaggio nei paesi d'Italia, nei piccoli paesi d'Italia, spesso sperduti, sconosciuti, alcuni anche che stanno scomparendo. Che cosa cerca il paesologo in questi luoghi? Beh, forse cerco un'Italia che nelle città non c'è più, un'Italia contadina che si è trasformata ma che ha ancora un'aura, una bellezza. Anche quando è vuota, affannata, in difficoltà, mi emoziona. È un'Italia che a guardarla con attenzione ci può fare ancora compagnia. I paesi stanno un po' scomparendo, inglobati dalle città e se sì, qual è il loro futuro? Stanno scomparendo anche le città, inglobate dalle macchine, dai palazzi. Quello è il problema. Le varie forme dell'abitare oggi sono in difficoltà, le città perché appunto troppo affollate, i paesi perché con poche persone. Io credo che comunque i paesi abbiano un futuro, se non altro perché i paesi hanno tanto spazio intorno, hanno tante case. Ormai nelle città non c'è più spazio. Nei paesi c'è la terra, dove c'è la terra c'è il futuro. L'Italia deve riguardare un po' le sue montagne. È una nazione di montagne e di paesi che ha dimenticato le montagne e i paesi. E noi qui in Bergamasca di montagne ne abbiamo tante. Un viaggio attraverso i nostri piccoli paesi è in programma magari? Io mi auguro che nascano nel Bergamasco e in tante altre zone d'Italia persone che rivolgano attenzione ai luoghi in cui vivano e li raccontino in maniera moderna, senza pregiudizi, senza compiacimenti. Il paese quando lo osservi da solo si fa vedere. Quando arriva molta gente è un po' come un animale, si nasconde. E quindi è un gesto più discreto, un po' più in punta di piedi. E poi il turista va alla ricerca di posti firmati, di luoghi famosi. Il paesologo va dove non va nessuno. È un turista della clemenza, va a fare compagnia ai luoghi. Per me non ci sono paesi brutti, ci sono paesi da vedere. Ogni paese ha guardato con attenzione, ha guardato con clemenza a nostra bellezza. Questa è una cosa che sento ovunque vado.